Un salotto tutto nostro. L'associazione italiana Rene Policistico ha radunato pazienti e nefrologi da tutta Italia per un incontro intimo ed efficace, capace di tradurre con semplicità il bisogno di informazione e confronto su una malattia cronica ancora da decifrare con cure definitive. Oggi AIRP è ad Ascoli Piceno con questo evento, questo salotto, ed è stato proprio un vero salotto con pazienti e illustri nefrologi italiani per parlare di Rene Policistico, parlare di Rene Policistico proprio ascoltando la voce dei pazienti, le loro problematiche e quello che viene fuori è un grande bisogno di informazione, ancora di informazione. In particolare per discutere dell'introduzione del nuovo farmaco in grado di rallentare la progressione della malattia renale policistica, in Italia è stato introdotto circa un anno fa e pian pianino un numero crescente di pazienti viene arruolato a questo nuovo trattamento che dovrebbe essere in grado per la prima volta di modificare la storia naturale della malattia. L'AIRP è un valore aggiunto per i nostri pazienti perché ha dato consapevolezza ad un percorso di cura ma non solo ad un percorso di cura, anche ad una diagnosi precoce, quindi consapevolezza sulla malattia policistica. Aiutare AIRP vuol dire divulgare l'associazione, vuol dire che il nefrologo dovrebbe innanzitutto parlarne con i loro pazienti, basterebbe dare una brochure e far capire che AIRP non è la solita associazione che fa un incontro all'anno magari in occasione delle assemblee. AIRP è presente sul territorio italiano sempre, tutti i giorni dell'anno. abbiamo un telefono che risponde sempre, abbiamo una segreteria, abbiamo un comitato scientifico che può rispondere, abbiamo una cerchia di nefrologi che rispondono costantemente a tutte le... lo vedete oggi, insomma sono presenti direi dei nefrologi veramente meravigliosi.